Non me ne vorranno gli stili Dan di Peg da Aya al disco uscito il 23 settembre del 1977 per ABC Records ma siamo al momento delle interviste di almeno due pagine al giorno. Sono le 10.43 minuti e 7 secondi ben tornati alla nostra rassegna stampa culturale che ogni giorno racconta il mondo della cultura in maniera sempre molto ampia sempre molto sfaccettata con il nostro sguardo sulla realtà però oggi vogliamo raccontare un progetto molto molto interessante un podcast che ci ha praticamente emozionato dall'inizio fino alla fine. Per fare questo sono qui molto contento a dare il benvenuto su RBA un ritorno dopo i giorni del Salone del Libro di Torino di quest'anno ad Alessio Cuffaro. Ciao Alessio, bentornato da almeno due pagine al giorno. Buongiorno Ciao Francesco, saluto a tutti gli ascoltatori Allora Alessio, insomma, abbiamo nei giorni del Salone abbiamo raccontato un po' le nostre passioni letterarie i nostri riferimenti letterari ci siamo lasciati portare dal flusso del Salone del Libro per raccontare il mondo della scrittura se vogliamo le nostre passioni, le tue in particolare però io oggi sono qui e sono molto contento di essere nuovamente con te però per parlare di un progetto nuovissimo, un progetto di un podcast in realtà gli sconfitti che racconta storie di perdenti voglio partire da un incipit, mi permetterai, sarà l'unica volta in questo quarto d'ora in cui ti citerò in questi dieci minuti in cui ti citerò perché poi vorrei che tu ci raccontassi il più possibile da dove nasce e dove porta se vogliamo questo podcast raccontiamo la storia di uno sconfitto, in questo caso di tre sconfitti e come sempre capita quando si racconta la storia di chi perde raccontiamo la storia di un progetto che non è arrivato a buon fine di qualcuno che ha provato a raggiungere una meta che sembrava inarrivabile la storia di un sogno che non si è realizzato e che quindi continua a mordere e a stimolarci sì perché i successi degli altri sono inservibili, al massimo possono destare invidia ma i fallimenti sono fecondi perché non scalfiscono il progetto si possono sognare solo i desideri che non si sono ancora avverati Alessio qui parliamo di sogni, di desideri, tra poco parleremo chi sono i protagonisti di questa prima stagione ma partiamo da qui, da questo incipit potentissimo che racconta i nostri fallimenti se vogliamo, no Alessio? sì esatto, guarda l'idea da cui sono partito, da cui siamo partiti con Igor Mendolia che è il regista del podcast è proprio l'idea di raccontare chi non ce l'ha fatta perché forse anche per stanchezza cioè per un eccesso di fruizione, di narrazioni su chi primeggia su chi ce la fa, che per carità ovviamente ci sta, fa parte del gioco è ovvio che il gladiatore che vince contro le belve nel Colosseo abbia fama e notorietà, no? però questo, se vogliamo, ha una ricaduta molto flebile su tutti noi quando invece veniamo a contatto con la storia di chi non ce l'ha fatta beh lì capiamo dove è l'errore, lì capiamo dove è la fragilità lì scopriamo la nostra fragilità e quindi è come se grazie alle storie di chi non ce l'ha fatta forse non voglio illudermi che ci sia un valore diciamo che una cosa che io scrivo possa avere un minimo di incidenza sulla realtà però forse può aiutare qualcuno a capire come farcela per questo dico che sono in qualche modo inservibili le vittorie e invece sono molto feconde le sconfitte l'incidenza c'è come perché se posso parlare della mia esperienza di fruizione del podcast insomma mi ha davvero messo davanti anche a delle domande molto forti perché sono delle domande che emergono in maniera molto forte attraverso anche la tua scrittura, il racconto di questi tre protagonisti della prima stagione di cui parliamo tra pochissimo perché vorrei fare un passo indietro tu hai appena detto che il regista Igor Mendolia che ti ha proposto insomma qualche tempo fa di scrivere un podcast e tu hai detto certo perché vorrei raccontare degli sconfitti però insomma ci soffermiamo Alessio ancora un attimo su questo elemento l'elemento degli sconfitti cioè bisogna fare i conti e lo so di essere quasi retorico diciamo in questo tempo di performante al massimo con quell'elemento che è un elemento che ci appartiene è un elemento con il quale possiamo anche far finta di niente ma dobbiamo fare i conti praticamente tutti i giorni no? sì, sì dobbiamo fare i conti tutti i giorni però li facciamo in maniera abbastanza fraudolenta nel senso che noi viviamo sicuramente in una società iper competitiva può star bene, può non star bene adesso non sto lì a fare neoliberalismo contro socialismo che non è quello il mio mestiere però lo raccontiamo in maniera falsa perché non vediamo come alla fine anche chi vince è sconfitto non so come dirti anche chi primeggia in questa gara di solito lascia da parte buona parte della propria anima della propria identità quindi per questa ragione anche chi primeggia in una gara spietata solitamente non ha poi tanto da insegnare agli altri perché per farlo quasi sempre ha perso se stesso per strada quello che mi affascinava di queste sconfitte che credo sia fertile per il nostro tempo non è semplicemente la perdita infatti adesso poi parliamo di quali personaggi abbiamo scelto però non sono semplici perdenti non è chi è arrivato in finale ha sbagliato il rigore per capirci ma è chi, perché quello può capitare a tutti perché l'incidente, l'inciampo nella vita è dietro l'angolo quello che mi interessa è il modo in cui queste persone hanno elaborato il proprio non farcela quindi che tipo di scelta hanno fatto per se stessi che tipo di racconto hanno dato a loro stessi e quindi mi interessa molto il piano introspettivo anche se poi il podcast non è una pesantata concordo, confermo sì sì, non è pesante assolutamente hai ragione infatti tu dici anche nelle note di accompagnamento a questo podcast che è una forma strana in realtà di podcast perché c'è narrazione c'è anche però l'elemento documentaristico diciamo, perché c'è una parte diciamo molto focalizzata poi sul personaggio dal punto di vista storico dalla sua biografia insomma, di chi stiamo parlando? la prima stagione prevede tre episodi cioè Edoardo Agnelli, Vivian Maier la fotografa e Carlo Petrini il calciatore ci tiene a specificare tra parentesi posso chiederti banalmente diciamo in questa prima stagione perché hai scelto loro tre? allora, ho scelto in realtà sarò molto sincero Vivian Maier è stata la prima in assoluto che avevo in testa perché conoscevo bene la sua vicenda conoscevo l'opera fotografica perché mi ero appassionato delle sue foto perché trovo meravigliose e mi aveva come dire, era una vicenda che continuava a interrogarmi su come sia possibile fotografare un intero mondo fotografare migliaia e migliaia di scatti e poi però quel mondo sostanzialmente non viverlo quindi lei è stata di sicuro la prima a cui ho pensato poi Carlo Petrini mi è stato suggerito da Sante Altizio alias il Buc Postino che è un carissimo amico ci tengo a dire che me l'ha suggerito lui perché non conoscevo la sua vicenda la vicenda di Petrini e anche quella è stata per me una vera rivelazione nel senso che è questo quello che mi ha colpito nella sua storia in questo modo struggente di provare a far penitenza raccontando la verità tutta la verità intanto non sentiamo Alessio Cuffaro non sentiamo la sua voce ma in ogni caso spero di recuperare quanto prima il suo dire il suo racconto voglio anche aggiungere che diciamo dentro la scrittura e il racconto di questi mi senti? sì sì adesso ti sento volevo soltanto aggiungere assolutamente nessun problema volevo aggiungere soltanto che dentro il racconto di queste tre storie di cui ci stavi insomma un po' dicendo la genesi c'è tutta la scrittura di Alessio Cuffaro insomma colgo l'occasione per suggerire la lettura dei suoi due romanzi Nessuna ragione al mondo nel 2021 e la distrazione di Dio del 2016 che tu hai completamente riversato e che tu dici anche essere diciamo pienamente dentro le tue corde questo racconto anche perché quello che mi ha molto emozionato nell'ascolto di questi tre episodi è questo questo virare diciamo improvviso verso la la sofferenza dei protagonisti perché a un certo punto del racconto come dire tu sei costretto a fermarti diciamo a smettere di fare quello che stai facendo perché quella diciamo riesce a toccare le corde ma non in maniera diciamo superficiale ma con grande profondità di racconto insomma ci tenevo a dirti anche questo insomma avendo letto anche i tuoi romanzi però insomma abbiamo recuperato Alessio Cuffaro e allora insomma torniamo da lui Alessio grazie Francesco scusate deve essere nessun problema caduto l'audio per qualche ragione dunque davvero ero alla scelta dei personaggi di Vivian Vivian Mayer mi avete sentito poi appunto Carlo Petrini mi è stato suggerito da Sante Altizio che è un carissimo amico che si occupa di cultura di libri fare il book postino insomma è un'esperienza che vi consiglio di andare a indagare e e mi colpiva anche lì di Carlo Petrini questa idea di far penitenza attraverso la confessione di tutto di tutta quanta la verità la propria verità e poi appunto Edoardo Agnelli che era una storia che conoscevo bene che in qualche modo più volte avevo immaginato di poter scrivere qualcosa perché non so come dire mi colpiva tantissimo quello che poi gli dico nel podcast cioè questa questa sconfitta sul nascere cioè nel senso questo ragazzo ha con una maestra è stato concesso di essere quello che per diritto di nascita invece è sempre stato cioè il finale era già scritto il finale era già scritto il finale era già scritto assolutamente e poi in particolare Edoardo Agnelli mi come dire lo trovavo struggente anche per ragioni se vuoi lombrosiane questa figura così esile rispetto a un padre invece così imponente questi tratti così dolci raffinati rispetto invece appunto anche solo un viso più più solcato dalle rughe del padre cioè vedere questo rapporto padre figlio mi aveva sempre lasciato un po' senza fiato insomma e e quindi diciamo questi sono i primi tre sono indagati con dovizi particolari nel senso che sono in realtà tre puntate per Edoardo Agnelli e per Perlo Petrini e due puntate per Vivian Maier insomma sono circa un'ora a protagonista ecco allora questo intanto questo è possibile recuperare diciamo l'ascolto sia su Spotify che su Apple su Audible insomma correggimi se sbaglio Alessio ma insomma siamo quasi in chiusura però insomma ti voglio fare la domanda delle domande perché come tu scrivi i fallimenti sono fecondi diciamo perché insomma siamo sicuri adesso faccio proprio l'avvocato del diavolo in chiusura siamo sicuri che si possono sognare solo i desideri che non si sono ancora avverati anche se sono desideri degli altri lo so tu adesso direi vabbè ma che domande delle balle però io questa domanda me la son posta ascoltando il tuo podcast le tre storie e adesso insomma colgo l'occasione di questa chiacchierata per farti la domanda direttamente sì allora ovvio che la frase un po' apodittica può essere contraddetta no? come dire se vedo Sinner o Djokovic giocare a tennis in quel modo magari invece mi voglia e sono dei vincenti mi viene voglia di giocare anch'io ok? va bene però in realtà che cos'è che mi fa dire che sono feconde le sconfitte il fatto che le sconfitte hanno sempre a che fare con la nostra fragilità allora la forza di vincere una finale ATP c'erano in pochissimi al mondo beh invece la fragilità di trovarsi spaisati rispetto alle scelte che bisogna fare nella vita quella ce l'abbiamo tutti e quindi se vuoi quello che mi interessa della sconfitta è che la sconfitta è universale mentre la vittoria è particolare ok? e quindi per questa ragione secondo me tutti possiamo imparare dalle sconfitte e invece delle vittorie abbiamo abbiamo ben poco da cogliere ecco e allora questi sono alcuni dei diciamo contenuti intorno agli sconfitti il podcast alla prima stagione di Alessio Cuffaro con la regia di Igor Mendolia intanto Alessio per adesso noi ci fermiamo qui ovviamente è sempre un piacere poter conversare con te spero di rincontrarti il prima possibile anche su altri contenuti ancora sulla letteratura questa nostra passione comune mi permetto di dire intanto grazie per essere stato ad almeno due pagine al giorno ciao Alessio buona giornata grazie a voi ciao a tutti ciao buona giornata e allora noi siamo davvero quasi alle battute finali però insomma ci ascoltiamo un pezzo di Now and End dei Beatles 1-2